La riapertura delle scuole la preoccupa? Perché il tavolo per la sicurezza che io ho fatto convocare ogni settimana ha funzionato benissimo, abbiamo preso decisioni difficili ma alla fine il risultato è quello che conta, se oggi Pescara rispetto a qualche settimana fa ha la curva del contagio che è diminuita notevolmente evidentemente quelle prescrizioni hanno funzionato molto e saremo sempre molto vigili e attenti perché purtroppo questo virus è subdolo e soprattutto quando colpisce può colpire fino alla morte Guardi, un po' preoccupa ovviamente però sinceramente oltre al fatto di comunque obbedire alle disposizioni del decreto ministeriale che parla chiaro in pratica vuole la riapertura delle scuole elementari e delle medie Ma al di là di questo io sono del parere che occorre in questo momento salvaguardare anche il lato psicologico dei ragazzi, sinceramente non ce la fanno più a stare reclusi in casa E' chiaro che vedremo come andrà nelle prossime settimane però è anche vero che poiché le vaccinazioni stanno andando avanti e man mano che aumenta il numero dei vaccinati la circolazione del virus deve forzatamente diminuire io sono ottimista che le cose andranno bene ecco Grazie a tutti.